Un'inchiascata Un'inchiascata ma è ingiocabile è ingiocabile però è figo ah, come c'è si, ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanti soldi c'ho? Nessuno. Ma... Not enough gold. Esci. Quindi vale qua. Sì, no. Ciao. Ah, questo è il colpo. Sì, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. Ah beh, non c'è niente, mettiamo questo, ok. Che eso! Che eso! Grazie. Grazie. Deve fare parlare con Cap. Rumford a la gara. Il può dire... Complito. Va. Non mi interessa. Che è! No, 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 no 16 militiamen went out, only Romford came back I can't help us We never should have built that with cursive prison 15 is right, come in and say Come in and say Come in and say Come in and say The dead have been a bane on our existence Since that cursed fire fell We have to burn them Just to make sure they don't rise from the grave Sì, sì Mi interessa solo l'altro Ok, no, io Help fight the risen dead I admire your courage But Captain Dalton and the militia were slaughtered by those things Only I survived Your warriors will be avenged Well, I have seen you fight Strike at the wretched mothers and their queen They're attacking the barricades And they're here And they go No, there more More Help 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 To ивать questa è una delle macchine raffreddate! ci sono più di loro nelle ruine sotto la strada ah di, non finisce più così? va bene